Direi che abbiamo fatto quello che ci chiedeva il territorio, cioè dare una potenzialità di appalto che avesse poi anche la capacità di trasformarsi in cantiere e di realizzazione di opere. Lo stralcio A è già in esecuzione ed è lo stralcio che coinvolge ovviamente anche il nuovo ospedale Felettino, su cui l'appalto immagino partirà nei prossimi mesi. Adesso lavoriamo invece per lo stralcio B che aprirà nel mese di febbraio, fine febbraio 23, prime settimane di marzo 23, che risolve anche nella rivalutazione progettuale un problema sul fronte franoso che consiste nell'abitato di Carozzo e quindi con anche un'attenzione a un'opera che andrà realizzata ma che non deve andare ad incidere negativamente sul territorio. Altri 50 milioni più o meno per questo secondo stralcio a cui si aggiungeranno più o meno 90 milioni per quanto riguarda invece lo stralcio C che è poi il completamento verso l'asse autostradale, quindi con il collegamento con il raccordo autostradale che completa quest'opera che in origine invece era considerata come un'opera unica ma che purtroppo aveva sia dei limiti di capacità progettuale ma anche dei limiti di capacità economica. Se pensiamo che questo insieme di tre lotti viaggia più o meno a circa 200 milioni siamo a 60-70 milioni in più di quello che invece era considerata la realizzazione dell'unico lotto che purtroppo sappiamo aveva avuto antiche sfortune almeno fino a partire al 2015.